Il mondo collabora unito per fermare la violenza disumana che sta facendo strage delle minoranze cristiane, non solo del Medio Oriente. E' il videomessaggio di solidarietà che Papa Francesco ha affidato alla cardinale arcivescovo di Lione, Philippe Barbarin, in visita a Erbil in Iraq per esprimere la vicinanza della Chiesa ai profughi e ai perseguitati dall'ISIL. I cristiani e i giazzidi sono stati cacciati con la forza delle loro casse. Hanno dovuto abbandonare ogni cosa per salvare la propria vita e non rinnegare la fede. In qualità di capi religiosi abbiamo l'obbligo di denunciare tutte le violazioni della dignità e dei diritti umani. Il pontefice ha poi chiesto di pregare per tutti i cristiani perché la loro resistenza è martirio. Papa Francesco si era dichiarato disponibile ad andare in Iraq di persona, ma finora le condizioni di sicurezza non lo hanno consentito.